buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è venerdì 14 giugno 2024 e vediamo subito qual è il santo del giorno perché poi abbiamo tante tante notizie da evidenziare quanto ne pubblicano i giornali questa mattina come sempre il resto del carlino e il corriere adriatico vedremo in modo particolare le pagine locali ma daremo anche uno sguardo su altri aspetti della regione Marche ecco vediamo il santo del giorno è Sant'Eliseo Sant'Eliseo è un profeta che visse nel decimo secolo avanti avanti Cristo ed era un discepolo di Elia è protagonista di un ciclo narrativo della Bibbia specialmente per quanto riguarda il secondo libro dei re e nella sua vita fece fece molto miracoli molti molti miracoli risuscitò delle persone guarì era un grande taumaturgo guarì i personaggi dalla lebra insomma di lui si raccontano veramente cose mirabili è uno dei profeti di solito la Bibbia in modo particolare l'antico testamento non è tanto conosciuto quanto lo è ovviamente il nuovo testamento ma l'esempio edificante di certi personaggi come i profeti potrebbe dare veramente un impulso per capire tutto quello che poi accadde successivamente nella storia di Israele ed ora passiamo alle previsioni del tempo e vediamo come oggi sulle Marche sarà una giornata nel complesso stabile e solleggiata il tempo si sta rimettendo dopo i leggeri piovaschi di ieri su tutta la regione ci sarà il sole con qualche nuve sparsa ma qualcosa di molto molto sporadico le temperature la temperatura minima è diminuita questa mattina nelle prime luci dell'alba era più fresco rispetto al passato 16 gradi la minima 25 gradi la massima i venti sulle coste spirano da est nord est mentre nell'entroterra da ovest sud ovest il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 5 e 24 e tramonterà alle 20 e 50 con questa situazione del tempo che influisce ovviamente anche sulla così sul modo di vivere la giornata perché poi le condizioni atmosferiche hanno un influsso biotermico oserei dire sul carattere delle persone e allora diamo subito un'occhiata al resto del carlino questa mattina è ancora tante tante le pagine che riguardano le elezioni oppure il dopo ovvero il dopo elezioni perché ora ci sono tutte le congetture tutte le ipotesi per quanto riguarda la formazione della nuova giunta prima si parlava soprattutto di chi avrebbe guidato le amministrazioni comunali ovvero chi avrebbe ricoperto il ruolo di candidato sindaco ora invece si specula sul fatto quanto sarà e chi saranno i protagonisti delle nuove amministrazioni dei nuovi esecutivi ebbene a fano il resto del carlino dice che fuori che fratelli d'italia vuole vuole tre assessori vuole tre assessori perché è stato il partito che ha avuto maggiori consensi e quindi vuole una maggiore rappresentatività all'interno della giunta ma se così fosse però non ci sarebbe un posto per tutte le componenti della coalizione di centrodestra e questo metterebbe un po' nei guai il nuovo sindaco luca serfilippi il quale ha promesso a tutte le componenti un ruolo nell'esecutivo comunque ieri c'è stato un primo incontro il sindaco ha incontrato i portavoce delle forze politiche della sua coalizione e ha cominciato un po' a introdurre il discorso si sono valutati i risultati elettorali e si è cominciato un pochino a ragionare sulle componenti di giunta quali dovrebbero essere le caratteristiche degli assessori innanzitutto una certa competenza una certa competenza della materia che formerà poi la delega che il sindaco darà all'assessore stesso non è una cosa proprio essenziale però insomma accompagnerebbe la competenza la professionalità di chi poi dovrebbe assumere certe decisioni e poi ovviamente influirebbe anche il numero di consensi ricevuti perché questo vuol dire che è il candidato più votato e quindi il politico che meriterebbe un risultato più evidente rispetto a quello che avrebbero ottenuto gli altri dunque fratelli d'italia vuole tre assessori in gioco sono sette poltrone così qualcuno rischia di rimanere escluso caccia anche le varie presidenze non sono da tenere in bassa considerazione le altre presidenze perché un presidente del consiglio comunale come un presidente di ASET SPA alla fine viene a prendere anche un buon stipendio quindi sono cariche che vengono così ambite in modo particolare come quelle di assessori lo stipendio di una località come un comune non è eclatante come quello magari che si prende in regione o quello che si prende in Parlamento comunque ora è stato anche ridimensionato recentemente e quindi ha una certa redditività allora diamo un'occhiata ai nomi alle speculazioni che fa oggi il resto del Carlino vediamo che i tre assessori che vorrebbe Forza Italia sarebbero ricoperti da Loretta Manocchi che ha avuto il maggior numero dei consensi ed è poi la segretaria del partito e quindi lei si parla addirittura di vice sindaco quindi questo è un ruolo che sarà ormai definito ormai lo si dà per sicuro e poi vediamo che al secondo posto dovrebbe tornare in consiglio comunale anzi torna in consiglio comunale ma poi dovrebbe diventare assessore anche Lucia Tarsi e il terzo invece è Davide Del Vecchio Davide Del Vecchio che è stato già assessore ai servizi sociali nella giunta a Guzzi e quindi tornerebbe ad occuparsi anche probabilmente adesso non so se sarà questo il suo ruolo ma potrebbe tornare ad occuparsi appunto dell'esecutivo per quanto riguarda invece il presidente del consiglio comunale si fa il nome di Francesco Cavalieri un ruolo che Francesco Cavalieri ha già ricoperto in passato Forza Italia avrebbe due assessori o forse uno non si sa forse uno forse un assessore anzi addirittura è il sindaco scusate l'assessore regionale Stefano Aguzzi che caldeggia la nomina di un esponente di Forza Italia in giunta mentre due assessori vorrebbe la Lega in questo caso entrerebbero Alberto Santorelli e Gianluca Ilari ne riberebbero da attribuire altri due allora uno a Forza Italia e uno a Fano Cambiapasso ma Fano Cambiapasso addirittura ha superato il numero dei consensi ottenuti dalla Lega e questo insomma potrebbe mettere in difficoltà Fano Cambiapasso è la lista che è stata fondata direttamente dal sindaco Luca Serfilippi ma vediamo anche il Corriere Adriatico perché il Corriere Adriatico fa un'ipotesi per quanto riguarda questa lista che ha avuto molti molti consensi e che ha visto eleggere Maria Laura Loredana Mangernino che è appartenente al corpo di polizia penitenziaria che ben gestirebbe e così ipotizza il Corriere Adriatico la delega alla polizia locale si sa come la sicurezza è stato un obiettivo primario messo in evidenza dalla lista della coalizione di centrodestra in tutta la campagna elettorale la sicurezza è stato uno dei principali obiettivi da raggiungere perché poi ci sono stati dei problemi negli ultimi tempi dato che sono emerse aggressioni, risse, situazioni non certo molto rassicuranti è un'esponente che ha una professionalità in questo settore che ha una mentalità anche di collaborazione con tutte le forze di polizia potrebbe ottenere dei buoni risultati e questo è appunto quanto si ipotizza ma dopo la scelta spetta sempre al sindaco in base alle varie indicazioni che riceverà dai partiti e allora l'incontro di ieri comunque che si è svolto in comune è stato un incontro interlocutorio ne seguiranno altri e poi si vedrà tra qualche giorno a Fano, a Pesaro, Biancani vuole due settimane per nominare la Giunta forse a Fano ce ne vorranno di meno ma comunque ancora è tutto in itinere e allora vediamo anche un commento critico per quanto riguarda ormai di commenti critici sul centro-sinistra ne sono arrivati a pioggia ebbene l'ultimo è quello della ex capogruppo in consiglio comunale Agnese Giacomoni Agnese Giacomoni che si era dissociata si era dimessa dal ruolo di capogruppo aveva sparato, aveva espresso molte molte critiche sulla conduzione sia del partito che dall'esito del lavoro compiuto dalla Giunta presieduta da Massimo Seri hanno vinto gli egoismi ora il PD faccia un'autoanalisi Giacomoni che si dimise dal capogruppo dice io segretaria non credo proprio che diventerò segretaria del Partito Democratico dato che non ho consensi beh dopo quanto si è dissociato difficilmente potrà avere i consensi del suo partito comunque la sua è un'indicazione critica di cui bisognerà pur tenere conto perché rappresenta un po' tutte le spine che in questi ultimi tempi il Partito Democratico ha avuto sulla sua pelle e che dovrà togliersi una ad una dai banchi dell'opposizione nel corso della prossima tornata amministrativa lei non ha votato il piano regolatore ha dato battaglia contro il polo logistico all'ex Zuccherificio si è dimessa da capogruppo da che cosa ha voluto prendere le distanze ora? questa è la domanda che fa la giornalista Anna Marchetti alla Giacomoni la risposta è proprio le scelte della Giunta Seri sull'ex Zuccherificio sono l'emblema della mancanza di visione del centro-sinistra ed è l'assenza di qualunque lettura sul futuro della città quindi veramente un giudizio drastico che non ammette deroghe insomma una critica a tutto campo allora torniamo torniamo sul Corriere Adriatico e vediamo come l'articolo di apertura Sufano riguardi invece il primo incontro non di carattere istituzionale nel senso di organizzazione interna come quello che ha compiuto Ser Filippi con i rappresentanti della sua coalizione per eleggere la nuova Giunta ma il primo incontro aperto con i cittadini e Ser Filippi ha scelto i pescatori i problemi del porto l'aveva già detto prima di essere eletto così farò se sarò di eletto sindaco ebbene lo ha fatto ha mantenuto la sua promessa ha incontrato i rappresentanti del gruppo Pesca e ha esaminato con loro quelli che sono i problemi del porto non sono pochi i problemi del porto innanzitutto emerge la necessità di un dragaggio non di un dragaggio una tantum come è stato fatto in passato ma occorre un sistema di lavori che vengono effettuati costantemente anno per anno in modo che i fanghi che si accumulano nel fondo del porto non si inquinino a tal punto da non poter essere poi depositati in mare aperto se questi vengono dragati anno dopo anno cioè una volta all'anno ebbene il deposito si può fare perché non hanno tempo di inquinarsi più di tanto e quindi i fondali possono essere ripristinati e la sicurezza della navigazione in porto può essere ovviamente assicurata e poi c'è anche il problema dell'isola ecologica in modo particolare per quanto riguarda i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi attualmente i pescatori che pescano in mare questi rifiuti non sanno poi come smaltirli il sindaco Ser Filippi ha detto proprio papale papale che martedì prossimo andrà in regione e cercherà di risolvere con i tecnici regionali questo problema e poi c'è anche il problema della viabilità il porto è una zona industriale che si confronta con quella turistica ma la viabilità deve assicurare una comunicazione efficiente con le industrie i capannoni che lavorano al porto ed infine c'è la rimozione del relitto uno degli obiettivi che ha perseguito la Lega a cui appartiene Ser Filippi nel corso della passata nella passata amministrazione in consiglio comunale Ilari più volte è intervenuto reclamando dall'amministrazione comunale la rimazione di questo relitto dato che il proprietario non ne vuole ormai sapere e quindi dovrà farsene carico il comune spendendo 100.000 euro per poi magari rifarsi nei confronti del proprietario ora questa patata bollente passa nelle mani del sindaco il quale ha detto di risolverla ha promesso di risolverla in breve tempo e allora vediamo un altro articolo riguarda una delle manifestazioni anzi ieri ne sono state presentate due due manifestazioni che introducono l'estate fanese una è il boomerang rewind festival una serie di iniziative che rievacano le atmosfere degli anni 80 e 90 con musica giochi modi di vivere cose gastronomiche insomma veramente si rivive una favolosa atmosfera perché non è solo quella favolosa quella degli anni 60 anche quella degli anni 80 degli anni 90 è stata un'epoca memorabile per quanto riguarda poi il modo di vivere il modo di concepire anche le vacanze l'estate e sarà patti bravo la testimonial di questo avvenimento ma saranno anche altri poi gli ospiti della iniziativa ci sarà un grande giocatore che commenterà che commenterà la partita Italia-Spagna come Ciccio Graziani che sarà intervistato da Gigi Brecciaroli e poi ancora cantanti insomma veramente ci saranno quattro giorni si comincerà il 20 di giugno prossimo ci saranno poi quattro giorni seguiranno quattro giorni di tante tante iniziative al Lido di Fano dove addirittura saranno montati due palchi uno sul largo Simonetti e uno sul largo Seneca sul lungomare Simonetti e quell'altro vicino a Piazzale Amendola il palco 2 il palco 1 dove si alterneranno tanti cantanti e tante iniziative l'altra invece manifestazione è quella che riguarda la musica classica ma una musica classica in versione popolare lo vediamo qui in questo articolo che pubblica il resto del Carlino il premio Tiberini d'oro all'orchestra sinfonica Rossini ebbene il premio Tiberini d'oro verrà conferito nell'ambito del Festival Symphony Pop Festival organizzato dall'orchestra sinfonica Rossini è un prestigioso riconoscimento che nel corso degli anni è stato assegnato a grandi protagonisti della musica sinfonica lirica cantanti musicisti eccetera e quindi quest'anno viene riconosciuto a questa compagine che da tanti anni opera diffondendo così la cultura musicale nel nostro territorio anche qui ci sono quattro appuntamenti con cadenza settimanale dal 23 giugno al 30 luglio tutti alle 21 e 15 e saranno poi divisi i concerti che verranno eseguiti tra la Rocca Malatestiana e la Chiesa di San Francesco tra gli appuntamenti vi ricordo quello di domenica 23 giugno con il trio Dimitri un trio formato da violini e violoncelli e poi da un pianista e poi ci saranno musiche di Rossini Brahms Beethoven insomma musica veramente quella che conta quella classica e poi vedremo ancora altri appuntamenti ci sarà un appuntamento dedicato all'opera di Puccini e altri ancora musica contemporanea insomma ci saranno veramente tante tante occasioni di gustare una buona musica a cielo aperto sia perché nella Rocca che nella Chiesa di San Francesco non c'è soffitto ci sono le stelle e quindi la musica vola vola molto molto in alto ma vediamo anche questa apertura che pubblica il resto del Carlino anche Archeo indaga sull'esippo un dossier alzessipario sul caso Archeo è una prestigiosa rivista di archeologia che viene stampata in tutta Italia con 20.000 copie ebbene la nota rivista dedica ben 13 pagine all'atleta vittorioso grazie al contributo di esperti e chi sono questi esperti sono le autrici Maria Teresa Curcio Rachele Dubini e Giuditta Giardini Giuditta Giardini la conoscevo benissimo perché è una fanese figlia di Tonino Giardini che si è dedicata in modo particolare all'esippo in qualità di consulente di una magistratura statunitense e quindi molto molto esperta di tutte le vicende e tutte le vicende poi saranno raccontate in queste 13 pagine che evidenziano e tengono alta ancora e contribuiscono quindi a tenere alta l'attenzione sulla restituzione dell'esippo di cui l'Italia rivendica la proprietà e quindi un modo ancora attuale per ottenere questo risultato vediamo ancora le notizie pubblicate dal resto del Carlino passiamo un po' nell'entroterra vediamo a Pergola l'ex sindaco Guidarelli che ha perso le elezioni ora si dedica con lo stesso impegno con cui ha guidato la città a dare il suo contributo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale Guidarelli continua l'impegno per Pergola e poi vediamo invece una manifestazione urbinata che desta tante tante partecipazioni è la Raffaello Gravel un'iniziativa di carattere ciclistico non agonistico organizzato dall'associazione ciclo ducale di Urbino ebbene le Gravel sono le bici da asfalto e da sterrato specie di mountain bike che possono appunto percorrere itinerari particolarmente difficili e questo giro nelle colline urbinate è veramente molto ambito da tutti coloro che amano questa disciplina ma torniamo sul Corriere Adriatico e parliamo e parliamo di Cronaca incursioni notturne dei ladri gravi danni per pochi soldi è accaduto a Fossombrone i ladri qui veramente hanno spaccato di tutto per ottenere pochi risultati un raid ladresco compiuto da alcuni malviventi probabilmente erano più di uno che hanno svaliggiato il bar del circolo tennis manomesso distributori del caffè delle merendine ci sono portati nella sede della Confederazione Italiana Agricoltori e poi nella palestra Atlantis Gym sottostante l'edificio della CIA della stessa associazione degli agricoltori hanno messo a suo quadro gli uffici divelto i cassetti i tavoli scrivanie scaraventato addirittura in aria documenti tutto quello che hanno trovato per appunto raggranellare pochi spiccioli insomma un atto veramente squalificante per questi ladri che probabilmente non erano affatto dei professionisti prima di chiudere vi voglio evidenziare questo programma di iniziative di Mondolfo il quale propone grandi nomi per un'estate di grandi eventi eventi per tutti i gusti presentato il programma cultura spot musica tradizionale gastronomia ebbene è una terza edizione di questa iniziativa si punta all'occhio soprattutto per quella del 19 giugno la terza edizione della rassegna letteraria con ospiti come Walter Beltroni Marino Bartoretti Enrico Ruggeri Luca Barbarossa Marcello Veneziani e tanti tanti altri e a questo punto non ho più tempo per leggere altre notizie ma vi invito a voi leggere i giornali comprando livemente in edicola perché bisogna sostenere un po' la stampa scritta perché altrimenti dopo le edicole chiudono come è accaduto anche recentemente vi do appuntamento sempre domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci